Grande successo per la quinta edizione del Congresso Regionale dei Cuochi, voluto e ideato da Massimo Di Cintio e Mitti in Cucina a Abruzzo, che si è svolto lunedì 28 gennaio nel centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti. Un grande successo per lo chef aquilano stellato William Zonfa Mitti in Cucina. Ha conquistato il pubblico infatti con le sue preparazioni, due rivisitazioni di piatti storici come la parmigiana di melanzane e la chitarra ragù d'agnello, piatti semplici eppure complessi da alleggerire, da rivedere ed è questo che lo chef ha voluto insegnare al pubblico presente. Il rispetto della tradizione è importante ma lo è ancora di più il nostro corpo ed è per questo, ha detto lo chef Zonfa, che sperimentare e cercare di rendere salubre un piatto ricco e gustoso senza perderne il sapore è fondamentale. Zonfa si è confrontato con altri cuochi di tutto rispetto presenti alla Kermess, come ad esempio Mattia Spadone, Franco Franciosi e Francesco D'Alessandro, Sabatino Lattanzi e Frederic Lasso, Mauro Liassi, Danilo Cortellini, Davide Pezzuto, Vito Pastore e Dadi Biaggio, ma anche a cuochi che si sono messi in luce negli ultimi anni, Vito Pastore, Sabatino Lattanzi.